A volte, vizio di fortuna, a volte chiaramente manca in altre circostanze, quindi 2 gol a partita, praticamente, quasi le caratteristiche. Io penso che se giochiamo come oggi la classifica a lungo andare sarà diversa, poi oggi è andata male e ci dispiace. Sì, sì, l'ho vista. Daremo il massimo, poi se faremo i 20 punti o meno vedremo. In campo ci andiamo noi, non lui, perciò se viene espulso lui relativamente non conto. Buona squadra. No, deluso.